Buonasera a tutti e bentornati al Tg di AC Milan Inside. Iniziamo il Tg parlando dell'addio di Simic. Ebbene sì, mi riferisco esattamente a questo post comparso sull'Instagram del giocatore circa un'oretta fa. È stato sceluto a titolo definitivo all'Underleck per 3 milioni di euro più un 20% su una sua fosura di vendita. Ovviamente anche noi di AC Milan Inside gli facciamo i migliori auguri. Sarebbe arrivata un'offerta da parte dell'Atletico Madrid per Pavlovich, il difensore centrale del Salzburgo, ma pare che questa offerta sia stata rifiusata. E sembra che sia il giocatore appena citato che Emerson Royal siano prossimi ad approdare al Milan. Si fa invece leggermente più complicata la questione Fofanà. Sembra che sia Manchester United che Atletico Madrid siano interessati a Fofanà e dunque il Monaco ha alzato la richiesta a 35 milioni. Per questo motivo il Milan starebbe valutando Rabiot, ufficialmente svincolato dalla Juventus, ma anche Rios del Palmeiras classe 2000. Samarzic dell'Udinese è uno dei nomi più forti di questa settimana. Sembra ci sia stato un primo contatto veloce senza però nessuna offerta. Attendiamo! Queste sono tutte quante le novità di mercato, io come al solito vi invito a venirci a seguire in tutti quanti i nostri social targati AC Milan Inside.